Dobbiamo fare un blocco navale umanitario nell'Adriatico, dobbiamo chiudere le nostre frontiere, è l'unico posto che è aperto a tutta l'acqua. L'ultimo, non ce ne sono altri, oggi succede questo secondo me, non è che neanche io ho la bacchetta magica, ma credo che dopo i messaggi dell'altro giorno del Ministro della Giustizia, Ministro della Giustizia, cioè il governo, ha detto che queste immigrazioni sono ineluttabili, queste affermazioni, e lo dico in una paccata senza polemica, arrivano in Africa alla velocità della luce, il messaggio che diamo è la porta in Italia è aperta, affrettati prima che la chiudano. Allora ha detto che quelli che ci sono dovremmo trovare qualche soluzione, ma il problema dell'infinito dopo mi preoccupa parecchio e preoccupa la gente. Allora, secondo me, ci mettiamo a 12 miglia dalla frontiera libica con le navi militari, le navi militari non sono la croce rossa, nascono per difendere i confini, allora tu salvi le persone che arrivano col mare grosso, gli fai fare poca strada, per cui non rischiano di annegare, li tiri su sulla nave, li rifocilli, li metti salvagenti, ci parli, magari all'interno fai un ragionamento immediato se c'è qualcuno che vedi e capisci che sta scappando dalla guerra, quelli te li tieni magari, ma sono pochissimi. Gli altri, quando il tempo e il mare è calmo, la costa la vedi perché 12 miglia sono vicine, ci metti delle barche nuove che ci costeranno sempre infinitamente meno che non stesse accoglienza ignorante che stiamo facendo adesso e li mettiamo con la prua verso la Libia o da dove sono arrivati e tornano di là, così dobbiamo fare adesso. Grazie. 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 Grazie.